Il Paradiso all'improvviso. Il Paradiso all'improvviso è un film commedia del 2003 diretto da Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Anna Maria Barbera. Trama. Lorenzo ha un giovane singh convinto, che senza una donna fissa si gode la vita senza pensieri e responsabilità. Il lavoro di Lorenzo è davvero particolare, in quanto è il proprietario di una ditta che produce neve ed effetti meteorologici finti, per film, feste ricchi stravaganti. La vita del giovane singh però sta per cambiare radicalmente, quando questi riceve un particolare incarico in cui viene invitato a presentarsi personalmente presso la villa di un cliente nell'isola di Ischia. Recensione. Il Paradiso all'improvviso è un film commedia del 2003, una pellicola diretta ed interpretata dall'attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come in tutti i film del comico toscano, c'è una bella donna ed un impacciato uomo che cerca o che è destinato a conquistarla. Ma non aggiungo altro per non fare spoiler. Il Paradiso all'improvviso è la classica commedia all'italiana, che però in questo caso è descritta un po' più come un viaggio all'avventura, o per meglio dire, in alcuni casi, alla disavventura. Se poi si è in cerca di film ambientati a dischia, questo è un buon prodotto per esplorare un po' l'isola. A parte queste considerazioni però, questa innesima pellicola di Pieraccioni risultano molto divertente, e dalla trama ed un finale già visto mille volte. Curiosità. In questo film recita la bellissima attrice colombiana Angie Ecepeda, che altri non è che l'affascinante Fiorella Morelli di Eredità d'amore, la famosa serie tv peruviana.